Vorrei credere, amare, amare, ma sulla mia strada incontro sguardi opachi, pupille inespressive che hanno perso il fuoco e il fuoco. Mi guardo intorno e vedo legno verde, non di speranza, un legno che dà fumo, un universo grigio con memoria vaga d'anime ardenti. Dal fondo dei secoli viene questa tristezza, profumo di grano, odore di case povere. Lunedì, le tangenti tentano di sopraffarci, contempla San Francesco gli arroganti grattacieli. L'Italia è un paese di gente piccola, vestita di saio o cotonina da mercato, da secoli invasa, soggetta a soprusi e diktat. Non possiamo non dirla una nazione, cinta dai suoi tre mari, coronata di nevi, e tutti quegli scandali, il loro marasma attuale e la coscienza inquieta di ogni parvenu. Abbiamo tutti un nonno contadino, fatto di sedie spagliate, di buoi, di vecchie con scialli neri sull'uscio di casa. Siamo nipoti di emigranti, restano in solaio valigie con corde, ma siamo dottori, mettiamo in cornice i diplomi e abbiamo bagni azzurri scintillanti. Riaffiora il ricordo di ciò che non sappiamo. Una campana ci parla, una patata terrosa, un misterioso fruscio nel cuore della notte, le foglie di gran turco che cullavano nel materasso i sogni dei tre snonni. Si domandava Teresa Davila tra quelle suore esauste per la fame se il denaro, la cosa indispensabile, fosse materia o spirito. Certi nostri politici in crisi, fra i magistrati e l'ombra delle sbarre, un po' angosciati o meno, si ponevano quello stesso dilemma? Prendevano miliardi alla maniera del passatore per offrirlo ai poveri o cercavano sangue per l'idea, come ai tempi romantici? Forse no, forse sì. Hanno scordato però di dirci quale idea? Saremmo loro complici per poco che si vedesse chiaro?